Salve, sono Demetrio Faroldi, sono responsabile commerciale per il territorio italiano, siamo qua a ISEE 2014, siamo ormai agli sgoccioli, è stata per noi un'ottima fiera dove abbiamo avuto diverse presenze dal nostro mercato italiano. Il mercato italiano che è in fermento, stiamo presentando qua a ISEE le ultime novità della gamma Midra. La gamma Midra si compone di 4 principali modelli, partiamo da QFU, Saphir, Pulse2 e Lecos2. È una gamma totalmente rinnovata, puntando molto più sul mondo del digitale, pur rimanendo comunque nel mondo analogico. Oltre alla gamma Midra, la nuova console Vertige che andrà a pilotare la gamma Live Core e la gamma Midra. Sullo stand abbiamo presentato anche l'ultima versione della gamma Live Core che ha la possibilità, oltre che a unire due macchine per cui arrivare fino a 8 canali di uscita e 24 canali di ingresso, ha la possibilità di effettuare la rotazione sulle uscite dell'immagine e inoltre utilizzare quella che viene chiamata Advanced Layer Management per portare il numero di layer da 6 a 24 layer per uscita. Il mercato italiano ha percepito molto bene quella che è la nuova gamma Live Core, siamo molto soddisfatti perché ci porta ad un livello prestazionale molto elevato.